Grazie a tutti Per la mia, o non mi sono, perchè, mi piace voi, mi piace voi, mi piace voi, mi piace voi. Buongiorno, portalo pure via. No, la levatrice la fai ovviamente una volta, cioè la tana vuota dietro un cane. All'altro è un anno. È un'età che si può anche dare un piccolo dito. Questa ci andrà dentro. Però lei rimane dentro quando si sente poi sicura. Se tu chiudi adesso lì, provi tutto. Lei va dentro e salta fuori, va dentro e salta fuori finché vedi che sta dentro. Poi piano piano bisogna allungare il percorso. Dai Uti dai 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 dai. Madonna, l'interessamento in tutta fibrillazione anche lei. Vedi come reagisce subito. E poi quando vuoi per lì come lì è andata, la botta sulla grina. Vai dai 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 non sa che la metti dentro dai dai bravo 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 dai 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 dove dove dov'è 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 la tua mano le interessa però secondo me la tua mano le interessa prima della fine basta vista l'età eh vista l'età bene l'età 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 l'età